Ciao a tutti e bentornati con Gabriele PRG e... What? Chi è questa? È un infiltrato! Buttiamolo fuori! Buttiamolo fuori! Ciao a tutti, sono Deco Stato 5 Halo, le cazzate time. Comunque ragazzi, quest'oggi vi faremo vedere che abbelliamo casa e facciamo lo smistamento chest. Quindi, Ago adesso... Ah ragazzi, ho messo i nomi sopra noi morfati perché sennò magari ci colpiamo, non ci vediamo. Sappiamo che almeno è lui, non mi può più trollare che arriva qua come no pig o zombo. Tu perciò l'hai fatto, sei cattivo. Sì, sì, sono cattivissimo. Quindi ok ragazzi, adesso noi tiriamo giù qua, spianeremo tutto, facciamo un'altra stanza e... e niente. Quindi Ago, tu per favore fatti un'ascia e inizia a tirare giù tutti gli alberi qua. Va bene. Ah ragazzi, una cosa sola. Se per caso avete questa lista morf e determinati animali non vi interessano, tipo a me questo scheletron cat non mi interessa, basta starci sopra e premere backspace, che è il tasto quello sopra all'invio. Quindi passiamo così, tipo lo zombie non mi interessa esserlo, una pecora neanche, uno scheletro neanche, un chicken potrebbe interessarmi, il ragno sì perché almeno posso scavare... vabbè che tanto... vabbè lo lasciamo però posso volare. I blades per adesso lo lascio perché posso volare nella lava, la pecora non mi interessa, il cavallo non mi interessa, non mi interessa, non mi interessa, neanche questo, questo e quest'altro, il pig non mi interessa, l'enderman neanche, replicator neanche, creeper neanche, zombie neanche e di nuovo replicator. Ok ragazzi, così abbiamo tutto il... arriva io? Abbiamo tutto pulito. Annanna? Sì sì. Ok, buongiorno. Allora, qui nella chest ho comunque preparato tutto quello che ci potrebbe servire per fare la puntata, ma ci servirà anche di più, ma attualmente non mi serve. Ma che... ah, si è ritrasformato, ho detto, ma che cazzo... No, io mi sono imbroglieto. Allora, innanzitutto facciamo così, spacchiamo questa, la mettiamo qui sopra, Destruction Catalyst e via, si incomincia. Allora, innanzitutto facciamo questa, la mettiamo qui sopra, Allora, innanzitutto facciamo questa, la mettiamo qui sopra, Anzi, sai che mo' che faccio... gli faccio vedere come si crea la Cleanstar più grande, così avremo molta più energia. Quindi questo qua non ce lo prende, questo ce lo prende. Ok, nel frattempo che facciamo quello lì, anzi io posso solitamente togliere un attimo la Cleanstar, tanto i punti si accumulano. Ah, si, stanno andando là dentro, vabbè, ecco perché si carica valente, però vabbè. Prendiamo questa, andiamo qua. Perché ci stanno 10.000 punti? Questo è ago. Comunque, mettiamo la Cleanstar qui. Oh, vuoi impararla? Sì, ho fatto nulla. Mettiamo la Cleanstar. Ah, però sì, possiamo fare così. Oh, vediamo. Eccola qua. Una, due, tre e quattro. Una volta fatto così, si fa uno, due, tre e quattro. E abbiamo la Cleanstar più grossa. Ce l'abbiamo grosso! Poi... Zozzone, zozzona! Le arnet, la infiliamo qui. Cibo. Sbam, 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 sbam. Si prende la Cleanstar più grossa. Due, tre e la quattro. Si arriva qua. Uno, due, tre e quattro. Abbiamo la Cleanstar ancora più grossa. Cinque, sei. E via così. Si può arrivare fino a questa qua che costa 25 milioni di MC, ma per adesso magari mi fermo a questa qua. Sì, da un milione mi fermerò a quella. Però almeno abbiamo qua imparato. La mettiamo qua. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Ok, una. Ho imparato. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici. Ok. Tre e quattro. Quindi ragazzi, abbiamo fatto anche le varie Cleanstar. Sono sempre la stessa cosa, solo che sono più grosse. E costano l'ira di Dio. Comunque, questa la mettiamo qua. Bruciamo un po' di energia. Ok, la Cleanstar adesso è carica. Cioè, carica, oddio. Molto più di quella di prima. La merda la posso usare qui dentro? Eh, non ho capito, ma va bene, sì. Poi. Comunque. Iniziamo di nuovo. Metto sempre questo blocco qua, perché siccome mi scava tre per tre, se io colpisco questo mi scava il pavimento. E non ho voglia di rifare il pavimento. Quindi, facciamo così. E via. Sì, parte. Ok. In teoria, abbiamo preso tutte le palle. Si fermi, signora. Altro po'. Che c'è? Oh, sì, mi ha pallato. Oh, il backpack. Dove l'hai preso? L'ho fatto. Ma vero? C'è sé. Madonna. Ecco perché hai visto tutta quell'energia lì dentro. Ah, balordo. Però non so come si usa. Si può mettere sulla spaino? Eh, no. Non si può. Io ho paura qua di... Però serve, serve, serve. Sì, sì, infatti lo sto già usando. Adesso mi ritrasformo. Ora sì. Oh, ok. Questo qua, questo qua. Oh, mi dica quando devo spianare, eh. Eh, guarda, io sto già spianando. No, quando devo... C'è gli alberi. Fino a dove devo arrivare. Eh, quello che ho spianato, ben andato, dato. Non ho capito un cazzo, però, va bene. Oddio, questo è un fosso. Un fosso? Eh. Adesso prova a chiudere, magari, quello che io ho spianato. Cerca, sai, di farlo più o meno che sembra normale. So che è difficile, però... F7. Sbam. 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 Lecce, son fe... Le son trebiene, volevo. Averte. Ma perché mi fai gli scherzi? Chi è che ti fa gli scherzi? Eh, dirmelo, no, che siete adesso nomati in zombie. Non sono io in zombie, eh. Eh, non mi siete... Ah, cautano. Porco! Oddio, quando ce ne sono? No, sono morta. Morta tutta. Porca vacca. Ti è perente, non fa più la cacca. Eh, mo' devo trovare. Hai un piccone a portare di culo? Sì. Ecco, vieni a rompere la mia tomba, va? Si, vieni a rompere la coglianza. Dove stai? Minchia che è laggata. Ah, tuo cazzo sei morto? Qua giù dove c'è questo zoo... No, non è un zombie qua. Dove c'è lo scheletro? Iiiiiiii! Mannaggia, rimuoio! Ma porca vacca! Muori, bastardo, muori. Muori, bastardo. L'ape ha più forza. Ma c'è proprio un'orgia! Sì, sì, c'è un'orgia. Secondo me è meglio dormir. Eh, dormiamo, va? Andiamo a nanna. Maremma, maiala. Oh, sì! Sì, dormimi tutta! Guarda, come cazzo sto dormendo? Vedo... Non puoi dormire, ci sono i zombie... Gli animali vicini. Dove c'è stata fuori. Perché? E mi dicevi che ci sono troppi mob vicini. Ah, a me no. Mi hai fatto boh. Bah, non ho capito. Ok, ho capito di idea, dobbiamo ammazzare tutti questi bastardi. Ah, ho capito perché... Allora, vieni qua. E qua... Allora, non puoi dormire. Troppi mostri vicini. Io mi trasformo in creeper. Che il creeper è un mob ostile. Ah no, neanche. Aspetta, ho capito. Dobbiamo spostare i letti. Facciamo prima. Lo stiamo nel piano di sopra. Dormi. Dormi bambino. Dormi bambino. Fammi un po'... Ehm... No, niente. Ma porca. Ma porca. Che è? Che è? Che è? Mi sono visto un creeper. Innanzitutto, voglio darmi qualcosa da mangiare. Allora, continuiamo. Qua dobbiamo anche fare casa. Quindi, casa, la spianiamo qua. Spero di non fare cazzate. Oh, ma mi distruggerò la case. Ce provo? Allora, qua possiamo fare direttamente da qui. Coincidenza. Sbam! Ho fatto una puttanata. I materiali! Ho tagliato i tubi al query. Aspetta. Oh my god. Oh mio dio. Ok. Ah, ho tagliato i tubi al query, quindi non spuntavo materiali per terra. Quindi, signora, vuole fare un piano anche sotto? Certo. Ah, qua posso sparare dritto, sì. Ok. Questo si può rompere senza problemi. Poi qua si può rompere senza problemi. Spero. Meglio scappare. Questa. E' meglio... Un attimo questo. Ho fatto un guai, è meglio scappare. Che hai fatto? Non dico. Che hai combinato? Non l'ho fatta apposta con gli... No, cosa hai fatto? Che guai hai fatto? Dio, guarda là. Dove? Vabbè, si può sempre riparare, no? Dove in casa? Iiiii! Oh mio dio! Questo ecco perché io dicevo, ragazzi, bisogna farlo uno più giù. Io mettevo il cubetto apposta. Lui è... E l'ho fatto qua. Ha distrutto casa. Questo, adesso avete capito il perché. Io dico, bisogna fare attenzione. Vabbè, per fortuna non ne hanno dato quelle chest importanti, porca troia. Orca vacca. Allora, facciamo una cosa. Io inizio a fare lo smis... Poi, l'hardumbe è base, questi cacciatori. Porca troia, guardate qua dentro, ragazzi. Ha distrutto tutta. Non ho più una casa. Vabbè. Te la riparo io. Amoruccia. Sì, vabbè. Metti anche solo... Ma guarda, distrutta tutta. Ma porca puttana. Vabbè, ripara il volo con la cobblestone, poi la converto in stone. Ma porca troia. Avete capito il perché non glielo volevo dare? Cioè, non è cattiveria la mia, eh. È che sapevo che andava a finire così. Ma che ne cazzo mai sapevo? Ho messo il blocco sotto. Ho messo il blocco tutto. Ma porca troia. Vabbè, ragazzi. Ripariamo casa. E poi continuiamo a fare quello che stavamo facendo perché non è possibile. Allora, facciamo così. Mi ritrasformo normale. Animale! Oddio, quanti materiali qui sotto. Via, via. Devo mettere sta roba nella cesta. Non ci può perdere tutti questi materiali. Trasformiamo tutto. Ecco qua. Ok. Qua è a posto. Poi vabbè, fai il legno con la sotto. Ci penso mi do. Allora, facciamo lo smestamento chest. Perché io sono bello che pieno e non so più dove andare. No ragazzi, no ragazzi, non lo uso più quel cosa. Non esiste. Meglio appicconate. Allora, questo qua. Questo qua, questo qua, questo qua. E te l'ho detto, se non fai attenzione fai danni. Non l'ho fatto in tempo a dirlo che... Boom! Boom! Allora. Crafting table. Ci serve, innanzitutto, le ceste. Le ceste ce le abbiamo qui dentro. Piliamo tutto. Ok. Crafting table. Allora. Andiamo a fare le ceste. Facciamo due ceste per adesso. Ceste, 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 ceste. Allora, facciamo l'iron chest che si crafta così. Quindi ne facciamo due. Poi facciamo le golden chest. E poi facciamo le diamond chest. Sbamma. Ci manca del vetro. Ci manca del vetro. E ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo? Abbiamo il vetro? Vetro! Vetro, vetro! Vetro, vetro, vetro! Non abbiamo vetro. Perfetto. Allora. Sì, abbiamo vetro. Ho detto una cazzata. Allora. Facciamo altre ceste. Che tanto ce ne serviranno parecchie. Ok. Adesso facciamo così. Perfetto. Zero. Ah no. Facciamo così. Ceste e ceste. Perfetto. Adesso rifacciamo le iron chest. E ne abbiamo sei. Rifacciamo le golden. E ne abbiamo cinque. Rifacciamo le diamond. E ne abbiamo tre. Facciamo così. Ok. Abbiamo i diamanti. Diamond. E ne abbiamo cinque. Quindi ci manca, ci manca, ci manca, ci manca, un ligotto di oro. Oro, oro, oro. Quanto oro ti darei, ti darei, ti, ti, ti darei. Neanche mezzo. Ah beh. Ok, abbiamo l'oro. Questa energia la prendiamo così, non importa. Ok. E finiamo di fare la diamond. No, prima la oro. Ok. Perfetto. Diamond, bastardo. Diamond. Scusa, ne ho tre. Mi stai trollando? Ci manca vetro, ecco, perché non ce lo fa. Porca vacca, c'è Pierin che fa la cacca! Vetro. Vediamo se con la claim lo fa prendere. No, con la claim non me lo fa prendere. Perfetto. Allora, ci buttiamo, ci buttiamo marble, no? Ci buttiamo uno di oro. E a stack di vetro proprio. Ok. Più di questo non ce ne dà. Mettiamo la claim. Sbam. Ok. Questo così, questo lo bruciamo. Un MC è sempre comodo. Ok. Diamond. Babam. Le je son fait. Abbiamo otto diamond chest. Allora, io ho fatto prima le iron, perché hanno una striscia in più. Poi ho fatto le gold, che ne hanno due in più. Poi ho fatto le diamond, che ne hanno tre in più. Anzi, di più. Molte di più. Eccola qua. Questa è la diamond. La oro arriva qua. La iron arriva qua. Sono, diciamo, le chest più grandi queste qua. Poi ci sarebbero anche altre chest. Allora, queste tre, crystal, obsidian e diamond hanno la stessa identica dimensione. Quindi, se vogliamo fare la crystal, si può ancora fare la crystal. Anzi, la facciamo così ve le faccio vedere che sono belle. Allora, crystal chest. Non cambia nulla dalle diamond. L'unica differenza è che sono trasparenti. La dimensione è uguale. Così abbiamo le crystal. E le chest, dove le mettiamo? Allora, facciamo la stanza giù. La stanza giù, usciamo fuori. Qua sempre, se il mister non fa saltare in aria qualcos'altro. Oh my god, che bello! Il pavimento lo dove... Di cosa lo fai? Di marmo normale? Lo fai bianco così? Quando mi è bianco, mi viene bello. Il bianco mi piace. E un'altra cosa. Aspetta. Questo è bianco qua. Vabbè, quello è marmo. Marmo normale. Questo è marmo lavorato. Prendi il marmo questo qua bianco. Fai per craftare una porta di quelle normali. E ti diventa marmo bianco. Allora. Aspetta che te lo piglio io. Aspetta, aspetta. Spostati. Facciamo così. Sbam. Ok. Io sono pieno, quindi prendilo tu. Mentre lui scava. Io metto tutte le chest qua. Perché sotto mi serve per poi passare i tubi. Ah, ok. Allora, ne mettiamo. Una chest qua. Anzi, no. Facciamolo di là. Perché già arrivano i pezzi del quarry. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, ragazzi. Allora. Queste qua. Adesso io distruggo. Non mettere i blocchi sotto le chest. Quanti cazzi di chest di diamanti. Vero. Allora. Andiamo di qua. Perfetto. Queste sono le nostre chest. Abbiamo bisogno adesso di andarci a svuotare di nuovo. Porca vacca. Da qua, da qua, da qua, da qua. Anzi, togliamo la prima chest. Perché ci mettiamo l'ender chest. Adesso vi farò capire perché. Lender chest qua. Lender chest. Allora. Mettiamo l'ender chest. Così poi ci svuotiamo. Perfetto. Questa la mettiamo qua. Distruggiamo quello che sta facendo ago. Perfetto. Allora. Perché? Perché adesso mettiamo l'ender chest che arriva qui. Poi sul primo. Li metteremo del vetro. Quindi. Andiamo giù. Scaviamo qua sotto. Ok. Andiamo a mettere questo qua. Dall'ender chest deve uscire. Quindi esce con questo. Perfetto. Poi. Diamante, 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 diamante. Ho finito i diamanti. Cazzarola. Ago, è necessario portare una crafting table a portare di mano? Sì. Me la appoggi? Allora. Me la appoggio subito. Appoggiamela tutta. Questo mettiamolo. Uno qua. E uno qua. E questo qua. Così. Ragazzi. In pratica. Sono sotto casa. Te l'ho messa. Mettimela tutta. Dov'è? Di sotto. Ah, di sotto per me è messa. Sì. Non l'ho vista. Ah, eccola. Facciamo così. Facciamo uno, due. E se non sbaglio tre. Perfetto. Abbiamo di nuovo i tubi. Tubami tutta. Tubami. Tubami. In pratica, i tubi in diamante sono dei filtri. Chiamiamoli così. Quindi noi facciamo tasto destro. Sappiamo che il bianco, grigio, che sul tubo è bianco, qua lo vediamo grigio, è la parte che va in alto. Quindi io ci metto il vetro. Sulla prima. Sul secondo ci andrò a mettere magari il diamante. Sul terzo ci andrò magari a mettere, non lo so, questo già di là, di su, di giù. Blah, blah, blah. Ok. Questo niente, questi li facciamo dopo. Ok, quindi per adesso mettiamo solo questi. Quindi se io vado a svutarmi nell'ender chest, anzi ve lo faccio vedere direttamente. Noi stiamo qui per esempio a scavare. Scaviamo. In là così non facciamo danni. Ok, abbiamo scavato. Ender punch, siamo pieni. Ci svuotiamo tutti. E guardate cosa succede. Oh, magicamente stanno arrivando gli oggetti qui. E si andranno ad auto... Come dire... Smissarsi. Bravissimo, ago. Quindi, adesso possiamo fare così. Deviamo anche il query. Quindi prima... No, non c'ho gli affari, dove sono? Ancuno, nell'ender punch. Sì. Ok, facciamo così. Questi mi servivano. Stavo scherzando. Allora. Andiamo prima qui. Andiamo giù. Mettiamo un tubo qua. Adesso vi spiego perché non lo attacco subito. Ok. Grazie. Non lo attacco subito, semplicemente perché così io mi faccio tutto il mio impianto tranquillo. E poi una volta fatto l'impianto, lo attivo mettendogli l'ultimo tubo e staccando quello vecchio. Adesso lo facciamo così. E ce lo sapevo che lo stronzo arrivava. Ok. Facciamo così. E andiamo all'ender chest. L'ender chest è qui. Quindi noi bucheremo un pezzo di casa. Qui. Ok. Cosa succede? Adesso. Noi attiviamo questo. Ok. Rompiamo quest'altro. Ok. Adesso finisce di girare. Ok ragazzi. Adesso sta andando giù. Andando giù andrà direttamente a smistarsi. Adesso io gli dirò che tutta la merda in pratica, quindi cobblestone, terra, tutto quello che vogliamo bruciare, andrà di nuovo su. Tutto il resto andrà a smistarsi nelle chest. Adesso queste si sono incasinate perché questi qua il filtro non ha nulla. Quindi si mette come cavolo gli capita random. Quindi. Allora, ecco qua. Il vetro sta arrivando. Perfetto. Adesso noi andiamo, andiamo, andiamo a metterlo qua sotto. Anzi, direttamente. Una volta che ha finito, gli metteremo il... Sì, 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 sì. Spostiamo direttamente quello a fare giù. Così abbiamo risolto ogni problema. Sotto è il nero, se non sbaglio. Quindi facciamo nero. Questo ha MC, quindi nero. Nero. Ok. Andiamo qui sotto, facciamo così. Adesso, ecco qua. La cobblestone e tutto il resto passerà sotto e andrà a farci MC. MC, hamsa. E simsala, bim, bum, bam. Bum, bum. Quindi, ok. Questo è a posto. Ricomincia a lavorare come prima. Qua è a posto. Il vetro si sta smistando. Perfetto. Ok. Adesso cerchiamo di uscire da sto buco. Adesso dobbiamo risvuotare di nuovo tutto questo. No, qua è giusto. Questo è da svuotare. Facciamo ender punch. Facciamo così. Adesso si andrà a smistare di più. Adesso, le prime volte, vedrete, come si dice, molta più... Più roba, diciamo, incasinata. Perché finché non finisco di dividere tutti i materiali, qualche materiale potrebbe incasinarsi. Però, diciamo già, adesso iniziamo a avere tutto separato. Tipo questi qua, adesso li metterò in automatico che si vanno a cuocere. Quindi. Allora. Indy per cui, la quale. Tastavo e dicevo. Ok, questo va su. Questo va su. Ok, dobbiamo separarli tutti. Perfetto. Come vedete, i pistoni qua sono diventati rossi. Quindi stanno lavorando a bestia. E non esplodono. Qua solo vetro. Solo diamante. Vediamo se nel dercesto... Oh, si sta svuotando. Piano piano. Mettiamo questo. Mettiamo questo. Adesso, qua, gli faremo arrivare solo ed esclusivamente... Ah, innanzitutto possiamo pure fare così. Rompere tutte le ceste. E mettere solo quelle che per adesso utilizziamo. Quindi qua c'è il diamante. Ok, ne mettiamo una sola qua alla fine per adesso. E tutto quello che non viene smistato viene qua dentro. Adesso tutta questa roba in automatico dovrà, in teoria, andarsi a cuocere da sola. Quindi, cosa succede? Prima, se non andiamo ad attaccare il tubo qua, siamo fottuti. Innanzitutto. Io parlo, 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 vi spiego, ma poi non lo faccio. Devo fare così. Ok. Andiamo direttamente dentro l'hopper. E la cesta sopra, lasciamo, che magari noi scappiamo a mano, ci avanza qualcosa, sta lì. Che se no, volendo, si può mettere direttamente anche a... A... Come si chiama? Al maceratore. Me lo chiama Stealing Generator. Però è un maceratore. Vabbè. Sì, Pulverizer addirittura. Ah, e questo qua sopra si chiama Pulverizer. C'è qualcosa che non quadra. Pulverizer. Va bene. Ci sono i nomi sbagliati. Questo invece cos'è? Ah, questo è un Transfer Pipe. Bello. Ah, questo è uno Stealing Generator. Perfetto. Ah, questa è una stone. Ok, ragazzi, questa è una stone. Va bene. Comunque, a parte questi bug di nomi che... Vai a capire. Oh, che figo! Guardate che figata che sta facendo ago. Io parlo e lui gioca. Ahahah. Comunque, ago, sei vivo, sì, hai una parola pure tu. Puoi parlare anche tu. Sto facendo un monologo. Adesso stai andando quello che dici perché... Mi gusto. Ok. Allora, vediamo un po'. Qui, in teoria... Ok, non sta arrivando nulla. Si sta separando tutto. E come vedete, ragazzi, sta andando su. Quindi, adesso arriverà qua. Quindi, spacchiamo un attimo. Ecco qui. Anche per non interrompere ciò che stai dicendo. Ok. Allora. Ferro lo mettiamo qua. Perché qua ci va oro e diamanti. Ferro. Ferro oro e diamanti, sì. Quindi, ferro bianco. La cesta la mettiamo qui sopra. E vai giù. Quindi qua c'è del ferro. Poi... Il quarzo. Quindi, ferro, carbone. Mettiamo lì. Mettiamo il quarzo qua. E dai, sono di nuovo un cretino. Filtro. Ecco, non l'ho fatto in tempo. Qua già arrivano materiali. E dai, basta! Ok. Adesso mandiamo tutto a smistare. Pure questa roba qua la rimandiamo tutta a smistare. Quindi qua mettiamo redstone. Mettiamo una cesta. Che ce la prendiamo da qua l'ultima. Adesso la mettiamo qua per adesso. Cesta. Qua andrà solo redstone. Vediamo se è vero. Redstone. Oh mamma. Ah, ecco. Allora, vediamo un po'. Qua sta arrivando del ferro. Perfetto. Quindi come vedete, ragazzi. Lo smistamento funziona. GG. Thank you. Thank you. Anzi, come è? Thank you, thank you, thank you. Thank you. Come cacchio si dice? Comunque. Allora, questo qua Sandstone è. Sì, ragazzi, comunque adesso gli facciamo finire di smistare il tutto. Perché comunque sta arrivando anche tanta, tanta roba dal query. E mi ci va un bel po' di più a finire tutto. Comunque spero che avete capito. E... Se Ago me lo concede, io direi di chiudere qui l'episodio. Tanto lo smistamento del chest, adesso lo avete visto come funziona. Qua c'è il cuoci tutto automatico. E adesso metterò in modo che questo tubo, invece di prendere da questa chest, vada a prendere da quella sotto che si sta smistando. Così, quando è piena, ecco, un'altra cosa. I blocchi di coal dovrò anche aggiungerli sotto. Perché così sia coal, carccio coal, anzi, me li prendiamo subito. Coal, carccio coal e blocchi. Li mettiamo sotto. E in pratica, se per caso abbiamo bisogno su di qualcosa, si fa in automatico. Quindi ragazzi, io direi... E sta laggando anche a me. Fermati un attimo. Tanto adesso chiudiamo. E niente ragazzi, quindi con questo è tutto. Noi finiamo di... Ah, è rotto l'albero, porca troia. Mo' crasha, eh. Guarda che... Minchia, vedo legna a piovere. Eccolo lì. Crashato. Va bene ragazzi, con questo crash vi salutiamo. Ringraziamo di nuovo Ago per aver rifatto crashare il server. Complimenti, un applauso. Applaudite tutti ragazzi. E comunque ci vediamo nel prossimo episodio che sarà tutto in miniera. Noi quindi adesso finiamo... Facciamo ripidiare il server. Finiamo di... Lui di far casa, io di fare... Lo smestamento e il prossimo episodio sarà tutto, tutto in miniera. Quindi... Ciao a tutti ragazzi e al prossimo episodio. Ciao ciao.